E buongiorno, buona domenica, Dio ti benedica, ti saluto con la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Oggi domenica 11 di agosto 2024 la parola del Signore viene rivolta ai nostri cuori in questi termini. Gesù disse a Pietro su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Testo che puoi trovare nel Vancello di Matteo capitolo 16 il versetto 18. Il titolo di questa meditazione biblica è questo, il credo. Credo la chiesa. Voi credete alla chiesa? Ma a quale? Ci sono così tante chiese che non sappiamo a quale avvicinarci. Questo è vero anche per me, ma nella Bibbia Gesù ne parla dicendo la mia chiesa. Ecco questa mi interessa, dopo tutto quello che Gesù ha fatto sulla terra per rivelarmi Dio, dopo quello che ha fatto per me morendo al mio posto, è bene che io sia attento a ciò che mi dice riguardo alla sua chiesa. Non è un edificio in cui si assiste a funzione o a rite, né l'organizzazione di una confessione, neppure un gruppo che rivendica di possedere la verità. La chiesa di Gesù Cristo è l'insieme di tutti coloro che basano la propria fede sul fondamento affermato dall'Apostolo Pietro. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Coloro che credono che Gesù è il figlio di Dio, scelto da Dio, unto, questo è il senso del termine Cristo, per riconciliarci con sé. La chiesa, secondo la Bibbia, è universale, per cui non si identifica con le organizzazioni umane che pretendono di ricostruirla sotto varie denominazioni, la chiesa anglicana, la chiesa evangelica, la chiesa ortodossa, la chiesa protestante, cattolica, romana, eccetera. In ogni luogo essa è composta da tutti coloro che credono nel Signore Gesù e che godono il grande privilegio di riunirsi insieme con spirito di fratellanza, avendo il Signore come centro. Un tizzone non può continuare a bruciare lontano dal fuoco. Un cristiano ardente per il suo ha bisogno dei suoi fratelli e delle sue sorelle nella fede per essere ammaestrato, per essere incoraggiato, per condividere la sua fede. Non priviamoci gli uni degli altri e soprattutto non priviamoci della presenza del Signore promessa a quelli che sono riuniti nel suo nome. E lo disse Gesù questo, dove due o tre persone sono riunite nel mio nome, quindi nel nome di Gesù, io sono lì, io sono lì in mezzo. E ancora Dio dirà nel Salmo 133, versetto 1, ecco quanto è buono e quant'è piacevole che i fratelli vivano, dimorino insieme. Là il Signore ha ordinato che ci sia la benedizione e la vita eterna. Chi è la vita eterna? Alcuni direbbero, dicono, forse dovresti dire cosa è la vita eterna. No, io ti dico chi è la vita eterna? Perché la vita eterna ha un nome specifico e non è una cosa, è una persona vivente. La vita eterna è Gesù Cristo, è conoscere Dio. Questa è la vita eterna. Quindi gloria al Signore. Uniamoci, fratelli, se ne abbiamo la possibilità, uniamoci. Quando ci sono i culti, quando ci sono gli studi, quando ci sono le riunioni di preghiera, le cellule nelle case, riuniamoci e godiamo di questo tempo insieme, perché è buono quando si dimora insieme, assieme alla Chiesa. D'altronde Gesù ce lo insegna, ha vissuto con i discepoli, viveva con i discepoli. Addirittura un giorno dice che la mamma di Gesù, assieme ai suoi fratelli, non i fratelli in fede, i fratelli di casa sua, quindi Gesù aveva dei fratelli e sorelle, dice che arrivarono e gli dissero chiamata Gesù e qualcuno andò da Gesù e gli disse Gesù guarda che c'è tua mamma e i tuoi fratelli che ti stanno chiamando, vai con loro. E Gesù cosa disse? Guardando ai fratelli in fede, quelli che stavano ascoltando la sua parola, lui disse, dice chi sono i miei fratelli? Chi sono le mie sorelle? Poi facendo cenno con le mani verso coloro che lo stavano ascoltando, dirà ecco mia mamma, ecco i miei fratelli, ecco le mie sorelle, coloro che sono attenti ad ascoltare la mia parola. Fidiamoci del Signore e fidiamoci lui negli altri. La Chiesa è formata di persone imperfette ma scelte da Dio per stare insieme. Dio ti benedica!